A me. Tocca. A me. Il mio regno per un setturbino! Revami dai piedi quelle infondicie! Puttale i paesi! Così, Bianco! Eh, guarda, perché che va dicendo? Inserta! Non ha polso? Fammi fare il giro del mondo! Resenta i muri e poi riportami al centro! Ebbene, al centro che stavo, no? Sì! Avremo bisogno di una vera poltrona a ruote, con delle ruote grandi, delle ruote di bicicletta! Resenti? Sì! Ma, ma, non è vero! Perché non mi dici la verità? Eh, come? Eh, come? Ah, ma sto! Vecchio muro! Al di là, c'è l'altro inferno! Ti ricordi? No! Ti ricordi l'incidente di Tandem in cui abbiamo perso le gambe? Tandem! Ah, ma? Ah, ma, no! Ah, no! Ah, no! Cosa vuol dire ieri? Vuol dire già mille disgrazie fa. Adopero le parole che mi hai insegnato tu. Se non vogliono più dir niente, insegnamene delle altre. O lascia che me ne stia citto! Degno del giudizio universale, ho sentito vagamente. Il finale è inaudito. Io preferisco la parte centrale. Ma riflettete, riflettete! Ormai c'è anche al mondo, non c'è più rimedio. Andatevene e amatevi. Leccatevi gli uni con gli altri. Quando non volevano il pane, volevano il mille foglio. Levatevi dai piedi, tornate alle vostre orce.